io conoscevo il critico del lavoro e mi chiese se al venerdì voleva andare a vedere qualche film come vice del vice io andai a vedere un film non mi ricordo bene il titolo so che c'era gli ultimi ma non dei moccani io andai in redazione sulla remetta un momento l'ultimo meno male che è l'ultimo filmato dice e basta quella recensione che hai fatto sì loro sono messi a ridere io portalo giù vado allora la tipografia era incorporata vado giù e poi torno dopo un momento arriva un signore chi è che ha scritto questa cosa sulla pellicola lui fanno non è un giornale degli studenti un giornale lavoratori scrivi la critica buona la fotografia non sappiamo cosa scrivere e poi portalo giù era lui insomma t'ha cazziato esattamente t'ha cazziato diciamo la verità ecco ma no aspetta perché esattamente 35 anni dopo o forse più una delegazione di cineasti va al Quirinale entro mi vede mi fa hai imparato a scrivere e io dico no io adesso giro bravo fantastico per bel personaggio grazie a tutti